Buongiorno a tutti, io mi chiamo Giancarlo Carniani, sono principalmente un albergatore, poi faccio un po' di cose, ma la mia funzione principale è quella di dirigere alberghi e quando mi hanno chiesto di parlare a quest'evento, è un evento un po' diverso per me, nel senso che il marketing che facciamo all'interno delle strutture alberghiere ha subito tantissime trasformazioni negli ultimi anni, quindi mi sono preoccupato di comprendere, di capire come era cambiato ed evoluto il mondo dell'hotelleria e come era cambiato il mondo di trasmettere emozioni attraverso strutture alberghiere. Quindi ho chiamato questa piccola presentazione Hacking Experience for Hospitality, perché è indubbio che il cambiamento che noi abbiamo fatto in questi anni, siamo passati dal vendere camere a vendere esperienze, quindi siamo entrati in un altro tipo di mercato, qualcuno ci ha portato in questo tipo di mercato. Diciamo per certi versi la presentazione, il discorso che vorrei farvi è molto legato a quello che vi ha presentato Mirko Lalli poco fa, è un'evoluzione di quello. Parto da un video che tra l'altro ha fatto proprio Nico per BTO, ed è un video nel quale sono state racchiuse, è stato chiesto ad un campione di clienti di alberghi quale fosse, cioè se veniva fatta la parola ospitalità, quale concetto fosse abbinato a questa parola, ospitality. E il risultato è questo. Sono dieci parole. Dieci parole molto diverse. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Le parole riscorrono una seconda volta senza musica, così le possiamo commentare. La ricerca è stata fatta dalla Cornell University, che è nel campo dell'hospitality la prima università al mondo, attraverso un campione di tantissimi clienti alberghieri. Le parole sono queste, rispetto, memorabile, sicurezza, unica, ascolto, calorosa, ospite, amichevole, comunità, cuore. Manca, quando le ho rilette, le ho riviste, le ho esaminate, manca una parola che per tutta l'esistenza dell'hospitality è stata al centro di qualsiasi attività di marketing dell'industria alberghiera. Servizio manca. Se voi pensate, qualsiasi azienda alberghiera metterà il servizio al centro. Se io guardo queste parole e le riscrivo tutte così, cosa vi fa venire in mente? L'ha detto Mirko prima, a me fa venire in mente Airbnb, totalmente Airbnb. E da queste parole, mettendole insieme e riguardandole, si capisce come quel tipo di messaggio e di marketing che è stato fatto in questi anni ha fatto totalmente cambiare l'industria alberghiera. E adesso vedremo come dobbiamo fare in modo di rivoluzionare il marketing. Un'altra slide. Queste sono quattro foto di quattro camere. IAT, Hilton, Intercontinental, Accor. Come possiamo fare marketing con queste quattro foto? Le camere sono esattamente uguali, esattamente perfette, avranno cuscini diversi, viste diverse, ma non si può più creare una campagna di marketing basandosi su ciò che il cliente percepirà all'interno della stanza. Perché da questo punto di vista sono diventati tutti uguali. Da qui stanno partendo concetti molto diversi e molto diversificati. E improvvisamente qualche anno fa ero negli Stati Uniti alla Focusrite Conference e la manifestazione era dedicata ad un concetto molto semplice che si chiamava pivot, ovvero era arrivato il momento di sterzare completamente tutte le conoscenze che fino a quel momento e tutte le sicurezze che ci eravamo creati fino a quel momento anche nel nostro campo. Alla base del marketing di un'azienda alberghiera c'è ciò che è alla base del marketing di tantissime aziende, ovvero la promessa, che è anche una delle cose più difficili da rispettare e da effettuare. Innanzitutto nell'ospitalità tutto comunica il brand. Dalla cameriera ai piani che rifà una camera, al facchino che prende il bagaglio, al giardiniere che vi incontra mentre state passeggiando in un parco, tutto deve comunicare il brand. Se non si è fortemente convinti di questo concetto non riusciremo a raggiungere risultati di grande livello. E le brand promise sono molto difficili da fare e molto facili da rompere. Il marketing non è pubblicità e non sono le vendite, è un insieme di meccanismi e servizi che insieme fanno sì che quella brand promise sia rispettata da chiunque all'interno della struttura. E non focalizzarsi sui clienti è totale miopia. Ci sono stati un sacco di errori che le aziende alberghiere hanno fatto nel corso degli ultimi anni non capendo anche che cosa stava succedendo nel mercato. non è la, se avete visto l'ultima puntata di Report che parlava di Airbnb e del grandissimo impatto che Airbnb sta avendo sulle città con conseguenze anche per certi versi sociologiche. Non ci sono a Venezia ma anche a Firenze stanno scomparendo gli appartamenti nei centri storici che stanno diventando preda sempre di più di Airbnb. Ma a prescindere dall'impatto sociologico quello che è successo è che in realtà Airbnb ha trasformato completamente anche l'industria alberghiera. Quello che sta accadendo è una sorta di iTunes per l'industria discografica. È arrivata una piattaforma in grado di far cambiare le cose, in grado di far cambiare tutte le attività che noi facciamo di solito. Questa è una foto di uno degli alberghi che dirigo. È una foto che in qualche modo dà esperienza. Noi abbiamo fatto una piccola ricerca di mercato e abbiamo chiesto ai nostri clienti prima di prenotare che cosa guardano. Perché siamo abituati a capire attraverso strumenti anche come Travel Appeal, come quelli che ha Mirko, che cosa succede dopo, come hanno percepito nel nostro prodotto, quello che gli è piaciuto, quello che non gli è piaciuto. Ma le aziende devono capire prima che cos'è che li spinge a fare delle prenotazioni. Questa foto è quella che nel 70% dei casi spinge i clienti della nostra struttura alberghiera a prenotare quell'albergo. Quindi il fatto che la camera sia bella, pulita, con dei bei cuscini, non importa niente. Qui c'è una promessa di esperienza. Mi immagino a fare il bagno in questa piscina con un drink mentre vedo Firenze. Ed è l'esperienza che colpisce i clienti. L'immaginazione. Il 50% dei clienti che stanno prenotando un albergo sono capaci di identificare qualcosa che crea in loro la visione dell'esperienza che andranno a vivere. Devono percepire il tipo di esperienza che faranno. Il 61% diventa cliente fedele e posta recensioni, molto favorevoli quando noi riusciamo a rispettare la promessa che gli abbiamo fatto all'atto dell'acquisto. E questo concetto è molto importante. Lo ha detto Sebastian Basen, non l'ho scritto, ma è il CEO di un'azienda importante nel settore alberghiero come Accor che ha completamente rivoluzionato il suo modo di fare hotellerie, che i viaggiatori scorderanno quello che diciamo nelle nostre pubblicità, si scorderanno delle nostre promozioni, ma non si scorderanno mai di come il nostro brand li ha fatti sentire. E questo è alla base del marketing nuovo che sta emergendo nell'industria alberghiera. Il caso di Basen è un caso molto interessante perché, ve lo racconto, vi faccio un po' di storytelling, nel senso che uno dei nostri alberghi è stato tra l'altro per qualche anno membro di Accor e le cose non sono andate neanche bene. Siamo usciti da quella organizzazione nel momento in cui il nuovo CEO entrava e cambiava totalmente le metodologie, cioè si rendeva conto di un mondo che non poteva essere più quello. Che cosa ha fatto Basen? Innanzitutto si è fatto un management di trentenni e ha chiesto loro di capire, pensare che cosa sarebbe successo nei prossimi vent'anni. Accorre un'azienda enorme, una delle più grandi aziende alberghiere del mondo, a migliaia di alberghi, quello che hanno fatto è stato rivoluzionario. Invece di continuare ad investire soltanto nel rinnovo prodotti, nell'ingrandire l'azienda alberghiera o nel rifare le procedure, hanno investito in totali segmenti diversi. Quindi hanno portato all'interno dell'azienda compagnie che vendono appartamenti, compagnie che vendono servizi, compagnie di consigli elettronici, hanno investito pesantemente su nuovi brand, hanno investito sull'intelligenza artificiale, stanno totalmente rivoltando, e non è una cosa semplice, un'azienda con migliaia e migliaia di dipendenti stanno completamente rivoltando l'azienda. Non cambia, aiuto? Ecco, ce l'ha fatto. Quindi il cuore del marketing all'interno della struttura alberghiera è la promessa, non soltanto all'interno dell'industria alberghiera, ma più o meno in quasi tutta l'industria è la promessa. La brand promise è l'esperienza di servizio che il cliente si porterà via, è come il servizio trasforma l'esigenza del cliente in qualcosa di memorabile, che è la prima parola che i clienti hanno detto cercano, e la prima parola è memorabile, qualcosa che non mi scorderò mai, sono alla ricerca di un'esperienza nel mio viaggio che potrò raccontare, condividere, e che mi ricorderò per sempre. La difficoltà più grossa è nel far sì che tutta l'organizzazione di servizio che noi possiamo mettere in piedi possa diventare all'interno della struttura una voce sola, quindi che le centinaia di persone, come nel nostro caso, che lavorano per i nostri alberghi, diventino una voce sola che hanno come obiettivo il rispetto di una promessa che deve essere memorabile, di cuore, unica, calorosa, quindi pensate quanto difficoltoso è. Ci sono delle promesse diversificate, adesso vi faccio l'esempio di alcuni pay-off nel mondo del turismo, anche in questo caso nel mondo di una destinazione. Chi di voi sa qual è un pay-off famosissimo? Secondo me è uno dei più azzeccati dell'intera storia delle destinazioni. Qual è il pay-off di una città come Las Vegas? Il pay-off di Las Vegas, che sbandierano da tutte le parti, è questo. Adult freedom, what happens here, stays here. Che vi assicuro di una potenza incredibile. Se vedete delle pubblicità di Las Vegas, è un mantra che Las Vegas, Las Vegas è la città in assoluto campione del mondo per quanto riguarda le presenze turistiche. mi ricordo quando sono, ma sono oltre 30 milioni l'anno, mi pare, le presenze turistiche di Las Vegas. Ed è un pay-off azzeccatissimo che dice esattamente tutto di quella città. Magari, insomma, alle famiglie, all'adult freedom, però chi di voi è stato a Las Vegas sa che è una specie di gigantesco paese dei balocchi dove gli adulti si divertono, anche i bambini volendo, insomma, in qualche modo. Ritz-Carton, altra compagnia alberghiera molto famosa, è famosa anche per aver generato un altro pay-off molto semplice, ma di grande efficacia. una efficacia che è stata poi accompagnata da una serie di video, ne vediamo uno poi fra un attimo, che ha fatto sì di ingenerare nelle persone un totale bombardamento, il loro pay-off è questo, ladies and gentlemen, serving ladies and gentlemen. molto semplice, molto, molto semplice, ma estremamente efficace. Vi faccio vedere se cliccate sul bottoncino rosso e se parte, spero, no, bisognava cliccare sul bottoncino rosso, dovrebbe partire dalla, dovrebbe, c'è un collegamento YouTube per far partire un video. Bottoncino rosso, non va? Eh, siamo messi male. Mirko, vai, che sei un esperto. No, siamo andati un po' troppo avanti. I bottoncini rossi sono dei link. Va bene. Non ho un video, non riuscirò a far vedere nessun video, bisognava saperlo prima. Va bene, vi mando poi i link dei video, non vedremo nessuno, sarà una presentazione un po' monca. Questa è un'altra idea bellissima per rispettare la promessa che ha avuto invece Westin. Ad ogni dipendente di Westin è chiesto in che cosa è esperto. quindi qualcuno può essere esperto qui vedo di musica, di danza, di chitarra, di sport e quindi il cliente sapendo che quella persona con cui in quel momento interagisce è un esperto che so, di sport potrà chiedergli che tipo di jogging potrà andare a fare a New York piuttosto in un'altra città. è molto divertente perché le persone poi sono abituate ad indirizzare tutti noi siamo portati a parlare fortemente della nostra passione quindi fuori dal lavoro abbiamo delle passioni. Ecco, immaginatevi che cosa possiamo trasmettere a un cliente quando quel cliente ci chiede qualcosa riferito alla destinazione dov'è su quella passione. Succede delle cose bellissime. quindi Westin su questa cosa qui ha creato la conferma della promessa. Sì, ve li do. Magari ci torniamo indietro e li vediamo. Ce la fate? Però sono bloccato con la presentazione. Comunque magari li vediamo alla fine se mi fate ripartire la presentazione li vediamo dopo. O glieli do in link insomma. E questo mi dispiace non farvelo vedere devo essere sincero perché ci avevo creato tutta aspettiamo un minuto aspettiamo un minuto non importa se non partono gli do poi i link sono dove ci sono i bottoncini rossi ci sono i video ce la fai? Sì. questo è il video di Ritz Carton uno dei tanti video loro fanno tutta una serie di video in cui fanno parlare anche lo staff di Ritz Carton di Ritz Carton Quando I walk into a guest room, I look for a little clue to help me serve them better. When I walk into a room for the first time, I think to myself, this is my room. I look for a little clue to help me serve them better. When I walk into a room for the first time, I walk into a room for the first time. Let's go. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non di riscarto, ma... Ecco, se andate avanti due slides, non questa, ma questa qui. Ecco, questa invece mi premeva farglielo vedere. Questa invece vi racconta, ve ne faccio vedere solo un minuto, abbassate un po' l'audio leggermente. Questo albergo qui ogni anno, alla riapertura stagionale, accoglie... Ah, no, questo... Non l'audio qui. Vivallo è happy. No, no, non ci siamo? Sì, ce la posso fare. Ecco, allora vi volevo raccontare che questo albergo qua fa una operazione straordinaria, cioè ogni anno quando riapre, alla fine della stagione, accoglie i clienti così, a sorpresa. Cioè, è in Messico. Tutto il personale si schiera davanti e gli fanno trovare violini, fiori. Voi immaginate, arrivate in un albergo e avete una schiera di personale che vi accoglie in questo modo. Guardate le facce dei clienti che arrivano lì e non sanno quello che gli sta per succedere. Lo fanno una volta all'anno, lo fanno una volta all'anno e riprendono l'immagine. Poi chiaramente fanno vedere anche l'albergo in tutte le sue sfaccettature. Ma le facce di quei clienti dicono la sorpresa, le cameriere ai piani che cantano, ballano, i violini che li aspettano. La forza comunicativa di un'esperienza qui, cioè io ci andrei subito, partirei domani per andare in questa struttura. C'è, c'è. I clienti sono... la signora è favore... Sì, è una cosa che imbarazza perché è talmente grande e ti fa sentire una star per un giorno. Cioè loro poi, l'albergo è molto grande, quindi il personale sono centinaia, insomma, penso. Basta, possiamo andare avanti perché questo dura diversi minuti, insomma, di facce sorprese che vengono accolte. Però ecco, la forza comunicativa del marketing di queste immagini è un'altra cosa. Questa slide ci ho messa tutta la sera, vi confesso, ieri sera a farla, perché questi sono... Quello che è successo nel mondo alberghiero è una rivoluzione completa. Ovvero, quando la maggior parte delle catene si sono accorti, si sono accorte che non si poteva più fare marketing nel modo in cui abbiamo visto dall'inizio, cioè i quattro letti che avete visto, perché quelle foto lì da sole non vendevano più. Quando si sono accorti che neanche la location, che è di solito la cosa più importante per una struttura alberghiera, era poi così fondamentale. Ogni compagnia si è messa a studiare una tipologia di accoglienza diversa. hanno percepito che l'albergo non era più la vendita di un soggiorno di una notte o due, che doveva rispettare i canoni del servizio, ma che dovevano andare molto oltre a quel tipo di emozione. Questi sono tutti i marchi nati dello student hotel, ha parlato Mirko prima, come sapete ha aperto ieri a Firenze, ci sono altri marchi che arriveranno in questa città, di quelli che vedete qua, arriverà un 25 hours e arriverà un W, tra pochissimo. Molte di questi marchi fanno parte di grandi organizzazioni alberghieri, il marchio Mi è di Solmelià, il marchio Joe & Joe è di Accor, Moxie è di Marriott, Aloft è di Hilton, Nihau è di NH, Edition mi pare sia di Marriott anche quello, vero Sara? Esatto. Hanno istituito degli alberghi completamente diversi a quelli che ci siamo stati abituati fino ad adesso. L'albergo stesso è diventata un'esperienza da vivere, perché per design, per tipologia di servizi, per cose particolari che vengono fatte, io ho dormito in alcuni di questi, perché alla fine come tutti sono attirato dall'esperienza. Per esempio Citizen M, che è stato forse uno dei marchi più innovativi e quello forse è nato da più tempo, perché ormai sono da 12 anni sul mercato. Citizen M ha sviluppato un intero linguaggio diverso rispetto a ciò a cui siete abituati. Comunica con voi chiamandovi Citizen, cittadino, sono alberghi molto particolari, andate sui siti a vederli, ognuno di questi alberghi ha una particolarità. Citizen M per esempio ha delle camere molto molto piccole, assolutamente strapiene di tecnologia e ha degli ambienti comuni in cui verrebbe voglia di starci tutta la giornata. La cosa buffa è che ho chiesto proprio qualche settimana fa al fondatore di Citizen M, che ha avuto il piacere di intervistarlo, gli ho detto, dico beh, è un albergo creato per una generazione di trentenni, massimo quarantenni, cioè uno entra lì e ha questa impressione, poi va a dormire in uno degli alberghi Citizen M di Londra o New York e vede che la maggior parte delle persone che sono lì sono sessantenni, settantenni e che quindi anche vengono colpiti da questo tipo di design. 25 Hours è un'altra catena molto interessante, apriranno fra un paio d'anni qui a Firenze, dove nelle camere si trovano delle cose curiose, divertenti, è tutto giocato sul filo del divertimento, quindi quando tu entri in uno di quegli alberghi, io avevo per esempio a Berlino una maca all'interno della mia, avevo il letto e avevo anche una maca bellissima su una vetrata in cui potevo vedermi tutta a Berlino e mi potevo addormentare o sdraiare anche sulla maca. Quindi ognuno di questi marchi ha particolarità, cose diverse. Ni Howe è basato tutto su un design molto spinto, molto colorato, molto diverso. Moxi che ha aperto in Italia già due alberghi, uno è a Milano Malpensa, è concepito come una casa. Quindi con un'enorme cucina a disposizione dei clienti. Il marketing parte dalla creazione e dal design. Non è più possibile fare marketing senza questo. E anche gli alberghi tradizionali, io dirigo tre alberghi tradizionali, quindi la difficoltà sta nel trovare un'identità e un punto dove differenziarsi, ma non lo facciamo più attraverso una differenziazione di servizio e di camera. Dobbiamo davvero far sì che la scelta di un albergo, a partire dal primo momento, ovvero dal sito web, sia una vera e propria esperienza. Ho messo questa foto invece per farvi capire quanto può essere devastante comunicare per le strutture alberghiere. Questo è un albergo, è una foto vera, tratta dal loro sito, che si chiama Juris Inn. Sì, e non solo, ma il loro payoff è questo. Stay happy at Juris Inn. Ora, ditemi voi come si fa ad essere felici con una foto del genere. Cioè, quale tipo di marketing possa farmi credere che io sarò felice in quell'albergo. Con una bellissima esperienza di una mochetta che secondo me ha qualche anno già dalla foto, delle bellissime poltrone a fiori e una reception. Probabilmente lavorano, sono in centro di una città importante inglese, mi sembra Edimburgo se non sbaglio. Comunque, stay happy. Diciamo, ecco, questo è l'esempio che vi ho messo di un payoff completamente cannato. Qui ci sarebbe un, ve lo lascio, c'è un link a Ace Hotel. Ce la facciamo? Andarci? Vai. E un altro link a Citizen M. Questo è Citizen M. È il Citizen M di New York. Volevo farvi vedere come comunicano questi due tipi di alberghi. Citizen M ha un tipo di comunicazione, come vi ho detto molto, se ci andate una volta a dormire vi faranno pervenire tantissimi messaggi diversi, tutti molto divertenti. e vi assicuro che tutte le volte che io ricevo un messaggio, un newsletter da Citizen M, sono di quelli che apro e che non cestino. Tutti noi ne riceviamo a centinaia, ma li apro perché mi comunicano sempre qualcosa di diverso. E il loro modo di comunicare vi assicuro è strepitoso, veramente strepitoso. Possiamo andare avanti, grazie. L'Ace Hotel, che era l'altro link, ve lo potete vedere. Questo era uno di quelli messi nella slide. Si chiamano standard hotels e di standard non hanno niente, a partire dall'insegna che è upside down, al rovescio. Sono in realtà degli alberghi molto... Quello che sta avvenendo è anche un passaggio dalle stelle, come diceva Mirko, cioè al lifestyle. Ovvero le stelle non interessano più a nessuno, oggettivamente. Quello che interessa è che l'albergo abbia una connotazione precisa di stile di vita. Standard Hotel ha fatto una campagna marketing utilizzando anche una serie di personaggi noti negli Stati Uniti. Ma lo ha fatto attraverso, se poi andate su questo sito vedrete tutta una serie di video molto interessanti che loro fanno. L'ha fatto attraverso non video patinati, ma video costruiti benissimo della giornata comune di questi VIP, di queste star, che vanno a stare allo standard hotel. In particolare quello di Beverly Hills è diventato veramente uno degli alberghi più famosi della città. Non avendo per caratteristiche servizi superiori agli altri. Però la creazione della loro campagna marketing, e solo visitando il sito ve ne renderete conto, è molto molto forte. Quindi quello che le persone in realtà stanno cercando è di avere questo tipo di esperienza. ovvero la vecchia esperienza di andare in un negozio autentico, il vecchio pizzicagnolo di una volta. Stanno cercando di darvi delle esperienze diversificate e diverse, in qualche modo. 25 Hours per esempio, li rammento un'altra volta, hanno creato una serie di punti all'interno della reception, per cui vi vendono un sacco di cose diverse. Quando entrate lì rimanete un attimo sorpresi perché già individuare la reception all'interno di quello che sembra un negozio di oggetti tra l'altro bellissimi è molto difficoltoso. Però il perdervi all'interno di quel tipo di operazione diventa un'esperienza, diventa divertente. Vi vendono tutti gli oggetti, qualsiasi tipo di oggetto è trovato all'interno dell'albergo. Dalle pentole in cui servono il breakfast, alle borse che troverete in camera, qualsiasi oggetto dell'albergo è in vendita. Finisco dando una definizione di quello che adesso dovrebbe fare un'impresa alberghiera, per creare un gruppo che sia in grado di mantenere la promessa. È un po' come il jazz, nel senso che bisogna ci sia un leader molto forte con idee molto chiare. Tutte le compagnie alberghiere che in questo momento stanno avendo successo hanno di solito un leader molto carismatico. Vi ho menzionato a Core con Sebastian Bazin, Citizen M con Michael Levy. Ognuno di questi. Student Hotel ieri con Charlie McGregor, che è un ragazzo giovanissimo, ha avuto un'idea molto brillante. Student Hotel alla fine è una risposta molto forte anche all'espansione di Airbnb. I ragazzi all'interno delle città non trovano più appartamenti da affittare, perché conviene più a chi li affitta darli al mondo di Airbnb. E quindi Student Hotel è una risposta a quel mondo lì, creando un ambiente favorevolissimo, misto, studentato, albergo, che fa sì che abbiano un successo molto forte. Anche in questo caso c'è un leader molto importante. Nel jazz bisogna sapere quando è il tuo momento, perché ognuno delle persone che lavorano all'interno di queste strutture deve giocare un ruolo e deve sapere quando questo ruolo va giocato. Vi ho detto prima, il brand è ovunque all'interno di una struttura alberghiera. Nel jazz le regole vanno sapute, ma bisogna sapere anche quando romperle e quindi quando passare a qualcos'altro. Non esistono più le compagnie barbose di una volta che vi davano, è successo anche a me quando ho cominciato a lavorare, davano interi manuali di procedure in cui vi dicevano tutto quello che dovevate fare. Se noi vogliamo dare delle esperienze, le regole ci sono, ma deve esserci anche un tipo di approccio e di spontaneità che in questo momento è richiesta dai clienti. Ricordatevi, vogliono un'esperienza memorabile e unica. Bisogna ascoltare e seguire il lavoro degli altri membri della band, quindi sicuramente bisogna lavorare in gruppo molto bene, come vi ho detto, l'identità di gruppo è molto importante, per tutti i brand che vi ho fatto vedere giocano tantissimo sull'identità di chi sono mentre lavoro in quel momento. bisogna aspettarsi dei casini, come nel jazz, perché nel jazz ogni tanto qualcuno va fuori, è tutto improvvisato, quindi qualcuno prende una strada che è sbagliata, però bisogna sistemarli ed andare avanti. E per finire bisogna molto focalizzarsi sul presente, su quello che sta succedendo in questo momento. Guai a fermarsi, come ha detto Mirko stamani mattina, aspettatevi dei cambiamenti enormi anche nell'ospitalità, perché continueranno ad esserci. Abbiamo una fortuna, come dico sempre, chi lavora in questo settore, che l'essere umano per adesso ha ancora bisogno di mangiare e di dormire, quindi anche se lo fa in maniera diversa e su forme diverse, però cancellare ancora questo bisogno primario non ci siamo arrivati. Grazie.